Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Fantastico, ok, siamo online, vediamo un po' cosa possiamo fare stasera. Allora ragazzi, innanzitutto vi do il benvenuto all'interno di quelle che sono le serate che faremo e daremo a disposizione proprio per andare a risolvere quei eventuali problemi, eventuali lacune che ci sono all'interno del vostro percorso formativo. Innanzitutto mi presento, sono Strongo Alessandro e sono un formatore professionista sulla famiglia Siemens e quello che andremo a fare, ve lo dico già adesso come calendario, è che ogni singolo giorno alle 21 precise per una mezz'ora in quanto io e voi proprio per far sì che ci sia della formazione gratuita in modo tale che se adesso vi trovate nella situazione in cui volete completare quella che è la vostra figura professionale, avete dei problemi perché casomai c'è una modifica su una macchina, su un impianto, su un PLC o un software da fare o vorreste arrivare a quel livello, quindi metterlo in mano sui programmi, ecco che noi siamo qui apposta proprio per aiutarvi il più possibile a arrivare, ad ottenere quella situazione. Bene, avete... ciao, ciao ragazzi, vedo innanzitutto i commenti, mi sentite, mi vedete, scusate non sono partito direttamente chiedendomi se si vedeva, se sentiva, datemi un feedback per piacere così iniziamo a vedere se la struttura regge, che sta utilizzando questo programma la prima volta, vediamo un po' come va. Allora, nel frattempo voglio già agganciarmi su un problema che di sicuro vi aiuterà. Allora, sappiamo benissimo che le situazioni possono essere diverse, diverse per ogni regione, perché ogni regione ha le proprie aziende, ha la propria attività, ha il proprio mercato, ci sono settori industriali totalmente diversi, quindi paese è paese. Quello che però genericamente succede è che quando una persona che vede continuamente un tecnico, che sia programmatore o quant'altro, che mette le mani su quello che è un PLC, ecco, questa persona la vediamo come fosse Dio sceso in terra. Perché? Perché lo vediamo che ha un sorriso spiazzato sempre nei denti, riesce sempre ad applicare quelli che sono i suoi ragionamenti, a scriverli velocemente sul programma e poi a caricare il software e vedere casomai che quella modifica, quello script, quel pezzo di codec che lui ha applicato funziona a prima in botta, a primo impatto. È successo anche a me le prime volte vedere delle cose del genere e io sono rimasto veramente affascinato. Ecco, ci sono anche altre situazioni, al di là di questa, di una persona che vorrebbe imparare la programmazione PLC perché gli piace o perché vorrebbe completare la sua figura professionale o anche per una crescita personale, perché è una cosa che interessa direttamente a noi. C'è anche un'altra fazza della medaglia. L'altra fazza della medaglia è che se sono un tecnico, il manutentore, un elettricista, chiunque esso sia, se poi all'interno di questa live c'è un elettricista, un manutentore, un tecnico che costantemente si trova ad avere macchine e impianti che si bloccano e c'è da fare delle modifiche o perlomeno mettersi lì a capire cosa è successo e andare a risolvere e adesso non si riesce a fare quel determinato lavoro perché? O perché non si hanno le competenze, o perché non si hanno le conoscenze, o perché non si sa dove mettere le mani, o perché non si sa come fare ricerca guasti, eccetera, eccetera, eccetera. Scrivetemi qui nei commenti se volete, se avete dei problemi del genere, iniziamo ad interagire e se avete anche qualche richiesta su un argomento in particolare che volete aprire, volete spolpare e volete casomai conoscere, che lo andiamo direttamente a vedere insieme. Qualsiasi esso sia, che sia una cosa che riguarda la vostra conoscenza a livello privato, che sia una cosa riguardante il lavoro, per esempio mi è successo l'altro giorno un incontro che ho fatto direttamente con gli studenti dove mi è stato chiesto guarda Alessandro io ho questo problema a lavoro, come posso andare a risolvere? Io ho detto perfettamente, scrivi nei commenti che ti vada a rispondere. Sono riuscito con un solo articolo a andare ad aiutarlo. Questa persona, il nostro cliente, ha un problema perché ha dei PLC nei suoi impianti che sono veramente così vecchi, impianti dei clienti, talmente così vecchi che deve andare a scablare, prendere il software e buttarlo su un altro PLC. Problema che non riesce a comunicare con questi PLC, sono così vecchi che ormai anche colore ha perso le energie di vivere sulla carcassa del PLC e quindi adesso lui si trova nella situazione in cui smonta un PLC ma non può comunicare e deve riscrivere un software su una 1500, su una 1200, quella che è, per far funzionare tutto l'impianto perché giustamente il cliente si domanda ok, mi cambi il PLC però me lo fai funzionare ancora e anche velocemente perché mi bocchi delle produzioni. Questo è uno degli aspetti che ha portato dentro questa persona, questo tecnico, una paura pazzesca. La paura del, ok, se io adesso gli metto a smontare il PLC, prova a comunicare, se ci riesco prendo il programma e lo applico sull'altro PLC, convertendolo, perché naturalmente tecnologia, versioni, PLC sono cambiate tantissimo, essendo che c'è stata un'evoluzione pazzesca negli anni, ma già degli anni 70, 80, fino adesso, quello che lui deve fare è proprio prendere, convertire, se si può, certe volte non si può, quindi andare a riadattare tutto e poi applicarlo. Quale potrebbe essere, secondo voi, la paura maggiore di questo tecnico quando deve fare un lavoro del genere? Scrivetemelo qua nei commenti. Secondo voi, se voi vi trovaste davanti a una situazione dove il cliente ti chiede cambiami il PLC, voi dite ok, ci provo, lo faccio, cosa vuoi che sia questo tipo di lavoro, difficile, devo cambiare un PLC, però a un certo punto dite, i PLC vecchi, i cablazzi non sono aggiornati, non sono uguali, identici a quello sullo schema elettrico, e poi casomai tiriamo fuori altri problemi, e se la versione software non è compatibile, cosa potrebbe succedere? E se il pannello non è compatibile col nuovo PLC, devo cambiare anche il pannello? Punto di domanda? Scrivetevi qua nei commenti, voglio sapere proprio la vostra esperienza, cosa vi porta a fare per andare a risolvere un problema del genere. Ecco che qui entra in atto quello che è una metodologia, e possiamo anche chiamarla una strategia, proprio per far sì che il cliente ottenga il suo impianto sempre funzionante, ma che allo stesso tempo il tecnico si trovi una strada davanti talmente semplice da applicare, impiegherà del tempo? Certo, le cose non si possono fare in fretta, soprattutto se sono cose vecchie o cose delicate. dipende anche dal tipo di impianto, del tipo di prodotto e soprattutto se lui riesce nella conversione. Ma mettiamo caso che lui riesce direttamente a portare questo programma vecchio all'interno del nuovo software, all'interno del nuovo programma, all'interno del nuovo PLC. Mettiamo caso che lui riesce anche a simularlo. Mettiamo caso che nel momento in cui lo va a cablare c'è qualcosa che non funziona. Qualsiasi cosa, non mi importa cosa. A un certo punto c'è un qualcosa che va a bloccarlo e dice pam! Adesso non funziona più niente. Un attuatore non si è mosso. Un motore non gira. E il palettizzatore non va. E quell'altra macchina non funziona. Eh ma quello non riceve i segnali di scambio come prima. Cosa fareste voi in questo preciso momento? Noto che c'è qualcuno che mi ha scritto con un nome. Sarà il tecnico di qualcuno. Ok? Cosa succede nel momento in cui ok, voi avete portato a compimento questo lavoro ma poi non siete riusciti a far ripartire l'impianto? Siete riusciti a trasferire? Non siete riusciti a far partire. Cosa fareste? Scrivete qua nei commenti. Sareste in grado voi di farlo ripartire? E se non sareste in grado cosa dovrete fare per far sì che adesso il cliente non si trovi fregato un po' dalla situazione bloccare quella che è la sua produzione andare ad arrabbiarsi quindi incavolarsi proprio perché gli è stato fermato un impianto un impianto che casomai gli produceva un milione l'anno di fatturato poco tanto che sia sappiamo benissimo che a livello industriale il milione è pochissimo il miliardo è un tanto più e così via. Sappiamo benissimo che noi programmatori tecnici in generale quando andiamo dai clienti anche sui nostri macchine quello che dobbiamo stare attenti è se dobbiamo fermare per fare delle modifiche dobbiamo fermare solo per poco tempo e in quel poco tempo dobbiamo cercare di risolvere il più possibile quelle che sono le varie situazioni. Cosa bisogna fare? Adottiamo una tecnica di ricerca guasti? Quale tecnica? Soprattutto dove si trova il guasto? Una volta trovato il guasto come lo vado a risolvere? Quindi qui andiamo a trasformare e trasformarci in ok ora non sono più uno sviluppatore che ho dovuto prendere un software vecchio e metterlo su un PDC nuovo ma sono diventato un quello che è chiamiamolo forse un kamikaze una persona che si mette lì e dice perfetto ricerca guasti è il mio mestiere ok cosa deve fare uno che deve fare il ricerca guasti? Allora c'è qualcuno che mi chiede io non sono un programmatore sono un eletricista però comunque sia l'intervento metterò tutto in conto tutte queste problematiche assieme al cliente prima di iniziare perfetto ve lo condivido anche perfetto ok non sono un programmatore sono un eletricista nel momento in cui vi faccio l'intervento premetto già che ci sarà un qualcosa di sbagliato ci sarà un errore ci sarà un rallentamento ci sarà una problematica e questo tipo di problematica che influenzerà il rendimento positivamente o negativamente all'impianto quando funzionerà va cercato di risolverlo immediatamente vi dico un piccolo trucchetto per fare una ricerca guasti la ricerca guasti non va fatta a caso la ricerca guasti non significa avere una macchina che non funziona mettere aprire il computer enti sì lì aprire il computer dire adesso in quale funzione vado a cercare il problema e inizio a cercare in tutte quelle funzioni che secondo me apparentemente vadano a risolvere o quelle funzioni dove vado a trovare a cercare il problema non devo cercare di prendere tutte le funzioni e poi con un setaccio o con un rettino come volete voi a mescolare mescolare cercare di vedere il problema che scivola sotto la rete e poi aggrapparlo così dire ecco il problema adesso ti risolvo assolutamente no per semplici motivi ora se avete un software piccolo e poche funzioni allora lì il gioco del setaccio vi viene molto facile se dovete guardare in due poste in croce tutti i santi aiutano ma quando avete un software ed un impianto di una macchina gigantesca dove avete più di 50 100 funzioni tra db o b funzioni fb fc eccetera eccetera dove sono collegate tra di loro ok e se scappa una c'è il rischio di danneggiare il funzionamento finale ecco che qui una ricerca guasti con metodo è quello che serve come si fa? step numero uno la prima cosa da fare che consiglio a tutti i miei clienti tecnici è osserva la macchina se prima la macchina quando funzionava aveva una determinata sequenza e adesso quella sequenza si è interrotta ok e si è fermata in una punto particolare in una fase di lavorazione particolare andare a capire quella fase ora le strade si possono dividere in due uno non conosco la macchina non l'ho mai vista prima quindi io la fase non la conosco posso mettermi a cercare anche sul PLC sul programma le varie fasi di lavorazioni e cercare di interpretarle ma non ho abbastanza esperienza su questa macchina non sulla programmazione ma sulla macchina chiamo un operatore chiamo un responsabile della produzione chiamo un altro tecnico se c'è qualcuno attorno a voi che ha già visto quella macchina per anni funzionare e sa a memoria che cosa doveva fare chiamatelo interpellatelo chiedeteglielo e gli dite guarda è successo questo questo che cosa doveva far dopo secondo te ok lui vi dirà doveva fare questo 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 perfetto prendete le informazioni andate a capire se verso il pannello operatore ci sono dei parametri o delle variabili che sono collegate e che possono aiutarvi a fare diciamo un ponte tra quello che è il problema e quello che potrebbe essere la soluzione e da lì andate nel PLC a capire queste variabili dove sono applicate perché perché concettualmente a livello proprio tecnico papale papale ciccia pratica il problema che lui conosce il tecnico conosce è sempre rilegato in un modo o nell'altro a qualche variabile con il pannello nel PLC e questa variabile è il problema fase di lavorazione parametro particolare di settaggi perfetto è rilegato al problema che riguarda lo stesso ambito che riguarda la stessa zona che riguarda lo stesso momento di lavorazione trovato il problema allora lì mi devo applicare per andare a mettere in piedi quello che è una mia tecnica per trovare la soluzione non tutte le volte quando si trova un problema si ha la soluzione sotto mano perché? perché se avessimo sempre la soluzione sotto mano allora avrebbero già inventato un computer una mente artificiale che risolverebbe ogni singolo giorno e a questo punto di vista non esisterebbe neanche il programmatore PLC ci pensa già il computer se sa risolvere problemi risolvere problemi significa essere furbi essere astuti essere agili essere veloci sia di ragionamento sia di scrittura di codice ma non muovere le dita cioè quanto tempo faccio un contatto aperto un contatto chiuso faccio un piccolo script in SCL non significa questo essere veloci significa dal momento che io ho capito qual è il problema quando ci metto il mio cervello a tirar fuori una soluzione ci metto mezz'ora ci metto una settimana spero proprio di no se proprio proprio una soluzione che possa andare a pezzare ok l'area il problema e far ripartire la macchina dell'impianto in produzione un po' stento però intanto è ripartita le ottimizzazioni le si fanno col tempo allora io vado a crearmi questa pezza ma ci devo mettere 5 minuti io in 5 minuti il mio cervello deve essere così veloce a dire cavolo anche se un problema che non ho visto non c'entra niente se non ho mai visto un problema o se non ho mai visto quella macchina se quella è nelle fasi di lavorazione nel programma si è bloccato lì in 5 minuti la mia testa deve aver ragionato sulla soluzione dopo deve essere bravo eccolo qua usare la logica del problema solving ok perfetto vai a risolvere il problema tramite ricerca guasti soluzione alla mano come dicevo la soluzione ci vuole in 5 minuti almeno che sia la soluzione base che cosa significa in 5 minuti in 5 minuti il nostro cervello ci porta a ragionare in modo semplice in modo generico ma questa generalità che noi andiamo a creare nella nostra testa mentre facciamo una ricerca guasti e una ricerca della soluzione sarebbe le nostre fondamenta questo lo vado a insegnare a tutti i miei studenti quando vanno a fare una ricerca o creare un software si devono sempre creare delle fondamenta queste fondamenta anche se sono brutte da vedere il codice è schifoso non importa è importante il concetto che c'è dietro la logica che c'è dietro se tu nel momento tu vai a strutturarti il programma o la funzione o la modifica che devi fare in quella determinata maniera che gira sempre attorno allo stessa soluzione ed è la parte portante quella deve essere la parte che sorregge tutto il problema e chi ti dà una soluzione ottimizzata nel tempo per far sì che quel problema oggi ce l'hai scusatemi ieri ce l'avevi oggi l'hai risolto domani farò un'ottimizzazione perché tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare quindi io l'occhio la testa le orecchie la mente tutto ci devo mettere dentro anche il tecnico che ha esperienza ce lo metto dentro gli dico guarda fa come prima no fa di meglio ok perfetto ho fatto le mie ottimizzazioni una volta ottimizzato quel problema non ce l'avrò più quindi sono questi gli step da andare a utilizzare ok ragazzi se avete qualche domanda fatemela qua nei commenti sono a vostra disposizione come dicevo le serate che faremo tutti i singoli giorni sarà alle 21 per mezz'ora circa dove andremo proprio a guardare un concetto insieme andremo a vedere qualche soluzione ma soprattutto se vi trovate adesso nella casisting in cui volete o dovete imparare per forza la programmazione per completare quella che è la vostra figura professionale quella avere di più una qualifica aziendale elevata superiore migliorativa naturalmente sappiamo tutti che il salario è totalmente diverso da un mestiere all'altro oppure che dovete avere dei clienti più soddisfatti cioè tutto quello che riguarda per voi la programmazione PDC e tutto quello che ne concerne le varie competenze le varie capacità come saper progettare e sviluppare come conoscere vari linguaggi di programmazione come diceva il ragazzo prima andare a fare problem solving quella è una tra le skill che deve avere un programmatore perché un programmatore non deve soltanto saper sviluppare un programmatore non deve solo sapere i linguaggi di programmazione e scriverli un programmatore non deve solo fare ricerca ma deve andare anche a risolvere i guasti deve sapere utilizzare il pannello partore deve utilizzare diverse tecnologie deve essere in grado di testare le cose gratuitamente ok e gratuitamente significa c'è un metodo per far sì che ogni singolo tecnico libro professionista o dipendente che sia in questo caso azienda vadi a fare dei test gratuitamente gratuitamente significa non andare a comprare i dispositivi testarli poi se non vi piacciono li rendete ma non è possibile perché casomai non c'è una possibilità di renderli al fornitore abbiamo fatto l'anno scorso un evento all'interno della nostra area privata con i nostri studenti proprio anche l'organizzazione lo studio di questo concetto come poter ottenere dei test costantemente ogni singolo anno in maniera funzionante e gratuita in modo tale che se l'azienda ha bisogno di o questo impianto o questo cliente o questa particolarità da testare ho bisogno di testarla ma non voglio pagare ok perfetto mi faccio tutti i test del caso se vedo che funziona e in più c'è anche una linea guida che gli permette di farlo sono tre ore allora da lì vai ad applicare applicare cosa significa applicare significa che gli strumenti la tecnologia il ragionamento la logica che ha applicato dietro e tutto il team tra i meccanici elettricisti i commerciali i meccanici dell'ufficio di sopra quelli che vanno a fare proprio la progettazione il programmatore stesso e casomai anche l'altro responsabile che ci sia buttato in mezzo al progetto ok perfetto una volta che quello è stato concluso ed è piaciuto al cliente finale la soluzione è stata ottenuta bene allora da lì dici ok perfetto adesso compro mi servono tot pezzi ok giù il listino prezzi mi servono tot pezzi di questo tot pezzi di questo tot pezzi di questo faccio preventivo mando al cliente ragazzo mio per fare questo progetto che tu mi hai chiesto la soluzione noi ce l'abbiamo carta canta l'abbiamo testato e funziona ce l'abbiamo in mano noi ora ok perfetto il progetto costa x caccia come si dice caccia soldi e noi ti vediamo far fare il lavoro tempistica caso mai fare tutti i test abbiamo impiegato un mese un mese tanto davvero tanto una settimana dipende poi dalla difficoltà facciamo finta un mese abbastanza tosto di test ok perfetto però nei test cosa è successo avete fatto test test che vi sono andati male e test che vi sono andati bene ora l'esperienza vi porta a comprendere che sono i migliori i risultati positivi o sono migliori i risultati negativi scrivete qua nella descrizione secondo voi nella vostra esperienza volete solo risultati negativi volete solo risultati positivi o volete un 50-50 scrivete quel problema nei commenti voglio sapere cosa vorreste voi all'interno della vostra esperienza vi do 5 4 3 2 1 vi dico la mia io vorrei molto i risultati negativi nella mia esperienza ho sempre preferito questa è una cosa mia personale ho sempre preferito i risultati negativi provate a pensarci non dico che non voglio i risultati positivi voglio anche risultati positivi ma risultati positivi arrivano nel momento in cui ho fatto così tanti sbagli nei test nella vita in questo in qualsiasi campo vale ho fatto così tanti sbagli che ho capito dove ho sbagliato e se sbagliare significa andare a sinistra allora vuol dire che io ho sbagliato così tante volte andare a sinistra che pian piano ho preso la via per la destra ok significa che se io in questo progetto di un mese che ho fatto gratuitamente io sono dipendente mettiamo caso che io sono dipendente un tecnico manutentore anche programmatore sviluppatore vado a fare questo test di un mese a un certo punto dico guarda io per tre settimane ho solo sbagliato non è andata bene neanche una e l'ultima settimana sono riuscito a trovare la soluzione forse qualcuno da lontano dice che programmatore non bravo per non dire parolacce ok è vero? non è vero? non lo sai finché non ci sei vicino accanto e spari la stessa identica merda e soffri come ha sofferto lui io in tre settimane ipotizziamo ho fatto solo negatività e una settimana ho fatto positività sono rimasto lo stesso contento perché per arrivare a quella positività non c'è positività senza incontrare negatività perfetto e quella positività è venuta a galla grazie alla negatività quindi sbagliando si impara questo non significa che adesso sbaglio ogni singola volta dopo anni di esperienza quando programmo no perché ho sbagliato anni fa ho provato ho sbagliato ho provato sono caduto ho provato mi hanno sgridato ho provato e ho risbagliato ancora come non si ci fosse domani e casomai ogni singolo giorno provavo riprovavo testavo simulavo mi mettevo anche a cablare sbagliavo lo stesso bruciavo qualcosa ma dopo che ho sbagliato la mia testa si va sempre a ricordare quello che noi ricordiamo molto spesso quello che sbagliamo i risultati negativi li ricordiamo questo ci permette che dai uno dai due alla terza non deve capitare più in questo modo io dentro di me ho tanti di quei ricordi di quello che non devo fare che l'unica cosa che mi rimane in mano è quello da fare facendo questa metodologia che io insegno a tutti i miei studenti all'interno di DB course il nostro percorso di formazione è ragazzi nel momento in cui state studiando una cosa nuova un concetto nuovo non prendetelo per buono e lo replicate paro paro ma fate di testa vostra sbagliate cercate di crearvi un errore e quell'errore poi lo dovete risolvere questo vi permette di crescere velocemente nella maniera più corretta possibile perché se io ti dico che una variabile non può andare in una bobina in un'assegnazione più e più volte consecutivamente così alla casaccio perché potresti creare dei danni tu te lo prendi te lo memorizzi tu dici ok perfetto Alessandro mi ha detto di non fare tante bobine con la stessa variabile ok ma se un giorno ti capita un software fatto da un altro dove ci sono un sacco di bobine con la stessa variabile cosa fai? Ti metti a cancellare tutte? No perché solo io ho detto una cosa del genere no quello che c'è da fare è capire perché una persona ti ha detto di fare in quella determinata maniera se non te lo spiega nel dettaglio da noi viene spiegato tutto nel dettaglio gli viene fatto anche vedere l'errore che si va a commettere maggiormente allora lui deve testare perché non posso mettere bobine dopo bobine dopo bobine con la stessa identica variabile che cosa succederebbe? ecco che ecco che una volta che vanno a creare l'errore e lo vanno a simulare testare sul campo se hanno un PNC un quadro elettrico un motocro qualsiasi cosa vanno a simulare un errore ecco che lì capiscono e dicono cavolo ma sai che se faccio in questa maniera in questa maniera sbaglio perché non funziona niente c'è quello che mi aspettavo non sta arrivando quindi per me è un risultato negativo non vedere la soluzione sotto mano ecco che la prossima volta non lo farò e allora andrò a fare nell'altro metodo andrò a sfruttare l'altra tecnica l'altro metodo l'altra strada e una volta fatto tutte le volte che questo mi è successo anni fa sappiamo benissimo che i software al 100% non possono venire mai bene dipende se è un progetto piccolo sì dai 100% ce la fai ma se è un software grosso 100% no perché una parte viene fatta in ufficio una parte viene fatta in ufficina l'altra parte deve essere fatta in campo perché quando il materiale è sotto mano che è lì è tutto sott'occhio alla situazione allora riesci ad implementare le ultime cose che prima non potevi perché nessuno te le ha dette te le ha mostrate te le ha spiegate questo può essere l'esperto più grande del mondo anche lui ha questa difficoltà di completare un software gigantesco al 100% funzionante che significa caricare il software nel PLC e farlo funzionare subito appena premi start non ci riescono proprio per questo motivo qua ci sono cose in cantiere che non possono essere spedite materialmente o replicate o spiegate in ufficio quindi ti devi creare l'errore perché si fanno le simulazioni le simulazioni vengono fatte perché se c'è un problema visibile lo puoi andare a risolvere se il problema non è visibile e non lo vedi cosa fai vai avanti aspetti che verrà a quel povero Cristo che sarà in cantiere no vi dovete fermare e dovete dirvi cosa succederebbe se ok bisogna testare tanto si vedranno un oceano di errori per poi trasformarli in successi ho scritto questo lo voglio condividere ragazzi Pier grazie mille bisogna testare tanto si vedranno un oceano di errori per poi trasformarli in successi ho scritto un programma tante di quelle volte per poi consegnarle un lavoro ben fatto fantastico questo vi fa capire che scrivere software non è solo un'esperienza è una parte d'esperienza l'altra parte è in officina se c'è la possibilità l'altra parte è in cantiere io mi auguro per voi che possiate fare tutte e tre le esperienze dal dal primo sviluppo quindi partendo da zero del progetto portarlo a compimento testandoli in ufficio portarlo a compimento e testandoli in ufficina portarlo a compimento e collaudandolo avviandolo e farvi casomai se c'è la possibilità farvi firmare anche l'accettazione dell'impianto quel famoso documento che tutti i tecnici e le aziende vogliono nel momento in cui l'impianto è in produzione da giorni settimane mesi quando voi avrete fatto una strada così lunga ci vuole del tempo gli impianti non vengono su dal giorno alla notte soprattutto perché non c'è il nostro lavoro ma c'è il lavoro anche di tanti altri tecnici ecco che qui avete completato quello che è un percorso uno tra tanti percorsi che vanno a incrementare giorno dopo giorno quello che è la vostra esperienza voi dovete immaginare che avete un sacco di esperienza un sacco buon Natale che tra poco arriva lui ha un sacco di esperienza ok ecco voi dovete crearvi il vostro sacco di esperienza non dovete aspettarlo un consiglio che do a tutti non dovete aspettare l'esperienza ve la dovete creare l'esperienza l'esperienza nessuno la regala la si cerca la si trova ok ragazzi direi che per stasera è stata una bellissima serata vi ringrazio tantissimo anche per i commenti che mi avete fatto sono contentissimo e innanzitutto ditemi se le serate come questa vi possono essere d'aiuto uno mi scrivete sì basta scriver sì e inviate ne vogliamo degli altri vi dico già per tutte le persone che sono entrate adesso che ogni singola sera alle 21 avremo questi incontri di mezz'ora questa sera siamo partiti un po' a ritardo colpa di internet non colpa mia e andremo a fare questi incontri dove avete un argomento scrivetemelo c'è qualcosa che volete imparare scrivetemelo Alessandro voglio imparare questo Alessandro voglio sapere questo Alessandro ho un problema così scrivetemelo c'è la possibilità della chat ok scrivetela avete la possibilità di commentare scrivetela più scrivete più cose volete sapere anche i problemi che avete a lavoro siete in cantiere siete in officina ho questo problema vorrei fare questo e vorrei creare questo come faccio eh ma se voglio diventare programmatore e fare il manutentore a tempo pieno cosa devo fare eh ma se voglio diventare libri professionisti qualsiasi cosa ragazzi all'interno della nostra scuola di formazione ci sono così tante persone così tanti tech ci abbiamo aiutato più di 200 in tutta Italia in meno di un anno e sono passati da dipendenti a libri professionisti sono passati da essere degli operai semplici a dei tecnici ben formati che vanno a fare una mutazione sono passati da essere manutentori che mettevano solo tanto la chiave inglese il cacciavite punto stop e sono diventati a diventare cioè mi impappino anch'io a dirlo sono diventati programmatori ma anche a livello base a livello superficiale perché gli serviva solo quel tipo di livello per andare a mettere le mani nei programmi e farli funzionare quindi qualsiasi tipo di concetto qualsiasi tipo di argomento nessun problema ragazzi scrivetelo siamo qua apposta ogni singola sera la 21 andremo a fare questi incontri proprio per aiutarvi il più possibile a ottenere quelli che sono quei piccoli risultati step by step per andare a crescere e incrementare quella che è la vostra esperienza e a completare quella che è la vostra figura professionale innanzitutto per naturalmente per chi non è iscritto vi lascio io nei commenti un bellissimo link che vi può essere d'aiuto www.ioprogrammo.info lo metto qua per chi non è iscritto può andare direttamente se di iscriversi questo è il nostro sito la nostra porta d'ingresso quelle che sono tutte le nostre informazioni gratuite dove riceverete ogni singolo giorno delle mail molto formative su determinate metodologie tecniche ma soprattutto anche quelle che sono state le esperienze di tutti gli altri tecnici che sono venuti e si sono iscritti prima di voi in più avrete ogni singolo giorno per un periodo di tempo delle video lezioni gratuite che potrete guardarvi tranquillamente sono video lezioni che vi vanno proprio ad aiutare a settare ogni singolo step che riguarda la configurazione hardware il PLC la crescita come programmatore a quello che va a fare la programmazione del pannello operatore la ricerca degli errori e così via e sarete aggiornati ogni singola volta che uscirà un video nuovo sui nostri canali ragazzi io vi ringrazio tantissimo commentate per quello che volete sapere in modo tale che la prossima volta possiamo portare molti più argomenti interessanti all'interno di queste serate ragazzi buonasera a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti